La mistica Maria Sinna durante tutta la sua vita ha incontrato numerose anime di defunti, anime che le chiedevano preghiere per alleviare le loro sofferenze e per accorciare il tempo che avevano da scontare in purgatorio e accedere al paradiso. Dalle anime dei defunti Maria Sinna ha preso numerose informazioni su cosa accade dopo la morte e su quello che succede in purgatorio. Il purgatorio, dice Maria, è sia un luogo che una condizione in cui ogni anima vive quando ha ancora bisogno di espiare e riparare i peccati commessi durante la sua vita prima di poter raggiungere Gesù in paradiso. Secondo la mistica non è corretto considerare il purgatorio solo come una condizione poiché è sicuramente anche un luogo. È un periodo d'attesa in cui le anime ebramano Dio e questa insoddisfatta aspirazione è la loro principale fonte di sofferenza. La mistica spiega che ci sono diversi livelli di sofferenza nel purgatorio. Ogni anima occupa un livello leggermente differente perché ognuno è diverso dagli altri ma in generale esistono dei livelli più alti e più bassi. Solo nei livelli inferiori Satana può attaccare le anime mentre negli strati superiori sono protette. Inoltre rivela un'altra verità fondamentale riguardo alle anime del purgatorio. Non è Dio a inviarle lì ma sono le stesse anime che si giudicano e si collocano a livello appropriato. Sono loro che desiderano purificarsi prima di avvicinarsi a Dio. Questa ultima affermazione coincide con quello che altri mistici hanno avuto modo di sapere. Dopo la morte ci si giudica personalmente in maniera obiettiva e sincera. Maria Sinna puntualizza questo dicendo che sono le anime che desiderano purificarsi e lo ritiene un punto fondamentale perché è sbagliato dire che è Dio a collocare le anime. A differenza di quello che si può pensare, nonostante il purgatorio sia un luogo di sofferenze e di espiazione, le anime non vogliono andare via da lì, non vogliono tornare sulla terra perché sanno che in quel luogo si stanno purificando e che espiando le loro pene incontreranno Dio. Questo perché seppur in modo minore e parziale, anche in purgatorio è possibile sentire e vedere la presenza di Dio e questo infonde alle anime sofferenti una grande speranza e forza. La mistica entra anche nello specifico dei peccati che conducono spesso al purgatorio. Secondo quanto lei ha appreso dai defunti, i peccati più ricorrenti sono quelli contro la carità e l'amore del prossimo, la calugna e la mancanza del perdono. Riuscire a perdonare è molto importante. Secondo Maria Simma, il modo più efficace per facilitare la liberazione di un'anima dal purgatorio è attraverso la Santa Messa. Spiega che poiché è Cristo stesso che si offre per amore nostro, l'offerta di Cristo stesso a Dio è la più preziosa di tutte le offerte. Aggiunge che se solo comprendessimo il valore di una singola messa per l'eternità, le chiese sarebbero piene anche nei giorni feriali, durante la nostra vita terrena. Questo perché nell'ora della morte le messe che abbiamo ascoltato diventeranno il nostro tesoro più grande, avendo per noi valore superiore alle messe celebrate per noi dopo la morte. La mistica indica anche un altro mezzo altamente efficace per aiutare le anime del purgatorio, offrire a Dio le nostre sofferenze. Queste possono essere sofferenze volontarie come il digiuno, le privazioni e così via, ma anche sofferenze involontarie come malattie, umiliazioni, lutti, abbandoni e così via. È la Madonna scendere in purgatorio e liberare le anime. La sua presenza infonde molta consolazione e per questo la chiamano madre di misericordia. Il rosario recitato per i defunti, ma anche qualsiasi forma di preghiera dedicata a loro, sono mezzi molto efficaci per aiutare le anime del purgatorio. Una volta nel purgatorio, le anime non possono fare molto per loro stesse, però hanno la possibilità di aiutare i vivi, intercedendo per loro e aiutandoci nella nostra vita e nel non commettere i loro stessi peccati. Le anime sono in grado di vedere e sentire tutto quello che facciamo, conoscono le nostre sofferenze, ma non i nostri pensieri. Rimpiangono le possibilità che hanno perso di fare del bene per Dio e dal prossimo e possono anche vedere i frutti che queste azioni avrebbero dato. Quando moriamo non possiamo più fare del bene e le anime in purgatorio non possono più guadagnarsi dei meriti. Maria Sinna ha detto che è stato Dio a permettere alle anime di informarla sulle condizioni dopo la nostra esistenza, in modo che grazie alla sua testimonianza tutti possano comprendere che la vita sulla terra serve per guadagnarsi il paradiso. La mistica ci ricorda che lo scopo della nostra vita è di essere buoni gli uni con gli altri, così da entrare in unione con Dio, sia ora sulla terra sia dopo nell'eternità. La nostra vita è preziosa, ci dice, ed è proprio in visione della vita eterna che è assurdo il comportamento che molti uomini hanno sulla terra. Maria Sinna ci ha lasciato una chiara testimonianza su quello che accade dopo la nostra morte. La sua testimonianza coincide con la dottrina della Chiesa Cattolica e la sua vita, le sue azioni e la sua testimonianza sono state attentamente controllate dalla Chiesa. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per far parte della comunità di fede e preghiera. A presto!